Fine settimana ha dominato dalle voci di corridoio quello appena trascorso. Dopo il terremoto di mercoledì, con l'apertura della crisi in seno alla maggioranza di governo, la dimissione di tre assessori, Mutali Passi, Darienzo e Lampasona, e la formale ratifica del cambio in corsa del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, passando da Adamo Coppola a Roberto Mutali Passi, i contatti tra candidati e liste si sono fatti frenetici. Nino Cianciola sembra aver sciolto la riserva e pare orientato con la sua lista civica nel centrosinistra a sostegno di Mutali Passi. Del tutto infondate le voci che immaginavano un ritorno di fiamma sul suo nome per poter scalzare proprio Mutali Passi. Spenta ancora prima di nascere la sfida interna per il simbolo del PD. Maggioranza dei consiglieri e del direttivo ha sposato la candidatura Mutali Passi. A nulla sono servite le pressioni di Coppola sugli organi provinciali e regionali per bloccare il blitz. Resta da capire ora cosa farà il sindaco in carica. I suoi fedelissimi sembrano incoraggiarlo ad una corsa solitaria e vista la forte frammentazione in atto questo potrebbe essere un vantaggio. Se attorno a Mutali Passi si è compattata la coalizione di centrosinistra è anche vero che la fuoriuscita prima di Massimo Laporta e ora di Adamo Coppola sembrano aver messo in forte discussione la vittoria al primo turno. I conti sono presto fatti. Se Mutali Passi resta in vantaggio dall'altra parte proprio Adamo Coppola forte dei suoi cinque anni di amministrazione e dei legami che ne sono derivati. Massimo Laporta da settimane attivo nell'attrarre nelle sue civiche gli scontenti fuoriusciti dall'attuale maggioranza e Raffaele Pesce con il movimento civico liberi e forti attivissimo nei suoi incontri territoriali nei quartieri della città sembrano in grado di contendersi la seconda piazza per sfidare poi Mutali Passi al ballottaggio del 26 giugno. Restano in piedi le candidature di Agostino Abbate con Fratelli d'Italia e di Gisella Botticchio con la civica Agropoli nel cuore. Mentre si attende la scelta di Forza Italia che con Emilio Malandrino, Costabile Spinelli e Mario Capo sta studiando le proprie mosse. Una convergenza su uno dei candidati civici o una corsa solitaria per giocarsi il proprio peso specifico in un eventuale ballottaggio? Staremo a vedere.